Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Il borgo di comunanza è nel Piceno tra i più colpiti dall'ultima ondata di contagi. Una cinquantina i casi positivi al covid, un centinaio invece le persone in quarantena. Una situazione complicata che ha portato l'amministrazione comunale a sospendere le attività didattiche nelle scuole per tutta la settimana, a chiudere gli impianti sportivi e i parchi pubblici nonché a sospendere il mercato. La nostra è una realtà piccola e quindi siamo in grado di poter contattare tutte le famiglie, verificare puntualmente il loro stato di salute e delle difficoltà che possono avere nel quotidiano. Una grande collaborazione con la Croce Rossa e la Protezione Civile che sicuramente ci conforta perché sono realtà che in queste situazioni stanno sul campo meglio di noi. Come sottolineato dall'assessore, un ruolo importante in questa fase è svolto dalla Croce Rossa sempre a disposizione delle famiglie per ogni minima necessità. Noi con il tempo della gentilezza che abbiamo attivato ormai un anno fa diamo supporto alle persone per la consegna sia di spesa che di farmaci. Nell'ultimo periodo trovo anche che il nostro sia un supporto psicologico perché molte persone in preda al panico perché magari non sanno come fare o perché magari sono sole a casa e sono positive iniziano a telefonarci per avere un po' di conforto. Quindi il nostro è anche un supporto psicologico per aiutare queste persone che magari si trovano a casa da sole a superare un attimo la situazione di crisi che uno può avere al di là dell'effettiva malattia che sta vivendo perché ci sono persone che sono a casa e magari non hanno sintomi così come ci sono persone che comunque non stanno bene. I cittadini stanno prestando la massima attenzione ma non è escluso che nei prossimi giorni il Comune possa diventare zona rossa. Abbiamo chiesto collaborazione ai cittadini e stanno rispondendo veramente bene. Siamo fiduciosi che se le cose andranno bene nella prossima settimana riusciremo ad evitare le zone rosse altrimenti vediamo poi la Regione cosa dispone per la nostra area.